Musica Buon pomeriggio da TripTV in collaborazione con la redazione 0766 vi diciamo quel poco che è successo in questo giorno di festa bagnato oggi è il ponte, oggi è la festa di tutti i santi cominciano il ponte delle feste di questi primi di novembre un ponte un po' smezzato perché normalmente c'era di festa anche il 4 novembre la festa di Forza Armata, quest'anno c'è ugualmente perché è domenica ma insomma è un caso intanto che c'è da dire? c'è da dire il maltempo che ancora è imperverso giusto oggi ripiove da questa mattina, anche questa notte ha piovuto forte si contano i danni alla marina dopo il sopralluogo sindaco e assessore Ceccarelli ci dicono che è intenzione di ripararlo subito qui non dovrebbe essere intenzione, dovrebbe essere una cosa necessaria ci sono i fondi particolari per i danni del maltempo basta chiedere, basta rimettere ma si può lasciare una cosa così aperta con un maltempo che continua e quindi è ancora una dichiarazione di incapacità perché o non dichiari niente e fai finta di niente non puoi andare lì, raccogli le mattonelle che si sono staccate e metti delle transenne e col vento già sono tutte volate cioè non è cosa così come le annunciazioni continuano e ci dicono che a gennaio riaprono i bagni della stazione e ditecelo quando aprono, se aprono perché è un apri a settembre quindi la problematica è sempre quella annunciamo ma poi non viene fatto niente detto questo anche Zingaretti dichiara la calamità naturale sempre per ricordare che per una volta dichiarati ci sono i fondi sempre col maltempo c'è stata la tragedia diciamo quasi annunciata perché un surfista che fa cat surf è un commerciante di sessantenne è morto per annecamento tirato giù e sbattuto sulla scogliera di Santa Marinella dalle cime della sua vela ora tutto va bene però dico ragazzi se c'è il vento forte c'è il mare in burrasca c'è il maltempo in avvio in arrivo forse sarebbe meglio mangiare qualche biscottino a casa in questi casi però ognuno è padrone di fare quello che vuole e quindi noi recitiamo solo che c'è stata questa questa disgrazia siamo nel ponte degli onnissanti abbiamo detto orario continuato per i due cimiteri questo potrebbe interessato a tutti sia oggi che domani dalle 8 e 30 alle 17 e 30 negli altri giorni dalle 8 alle 16 e 30 quindi c'è un'ora in più ci sono le linee dedicate in più ci saranno ovviamente le solite cerimonie di commemorazione dei per quattro e quattro dei defunti nei soliti posti con le deposizioni delle corone di alloro poi per il comune e allora ancora grazie all'intervento della direzione marittima del Lazio da Capria del Porto manteniamolo blu e quindi il forte Michelangelo è tutto blu questo significa manteniamolo blu il mare cioè la guardia costiera laziale dopo le città di Montalto Cheeta Terracina anzi Fiumicina adesso a Civitare che è adesione anche di Fondi Sabaudio Tarquinia e Ponza quindi porre all'attenzione della comunità regionale con questa illuminazione notturna il discorso del manteniamolo blu è contro la plastica hanno fatto dei servizi sulle tv nazionali non si sa quante tonnellate migliaia di tonnellate solo di bottiglie per ricordare la frase ci sono che vengono prodotte e che vanno poi a finire in mano c'è una cosa indescrivibile ed è una cosa ovviamente di questi anni non c'è altre situazioni quindi è una cosa che non c'era prima chiudiamo con la notizia della Pallannuoto l'avevamo già annunciata ieri col calendario il SNC che giocherà sei partiti in casa nel giorno di andata sono 11 le giornate di gara dell'andata e 11 del ritorno si inizia ad Ancona il 24 novembre poi il primo dicembre esordio in casa contro il Comonuoto poi un viaggetto a Genova il primo dei cinque contro la neopromossa Sturla l'8 dicembre e chiuderà poi in casa per la prima sosta contro il Sorio un'altra squadra Liguere poi si riparte esattamente quasi un mese il 12 gennaio ancora in Liguria contro il Camogli e poi in casa contro il Lavagna per fare tutta la serie delle società Liguere vedete che si alternano una in casa una fuori quindi il ritorno sarà al contrario e poi si viaggia a Torino una delle trasferte lunghissime ma comunque ancora servita quantomeno da un treno poi c'è in casa il Brescia trasferta anche questa bella lunga quando sarà il ritorno ancora una Ligure in casa il 9 febbraio si va a Padova anche la trasferta lunga ma sempre con un buon treno come già si fece in anni passati Padova era quella famosa squadra che siamo giocati il playoff e c'è stato il ricorso la partita vinta a tavolino la sceneggiata da allenatore insomma se vi ricordate e poi si chiude il giovedì andata con il Bologna in casa che è una squadra che ha perso il playoff con la Roma nuoto l'ultimo anno passato e quindi si chiuderà il campionato il 22 maggio con la trasferta di Bologna detto questo appuntamento a domani e buon pomeriggio a tutti grazie a tutti Grazie